C'è a mettere in posto stiamo registrando e ci troviamo qui a Biancavilla c'è Mariucci al microfono insieme a Dani85 alla sua ragazza Alessandra se non ricordo male Sammy J alla camera un suo caro amico alla macchina fotografica un altro amico emigrato a Milano se non erro e un altro ragazzo appena arrivato di cui non conosco il nome bravo con la chitarra bravo la chitarra con questa versione unplugged 2008 fine 2009 e niente adesso canto bravo la chitarra Dani85 è una bestia confermo non solo a Firenze anche a Catania poi mi ti concentri dai un po' di serietà siamo dei produttori no Dani uuuuuh Dani la chitarra vincere vai il duetto dai dai vai via via perchè ogni volta penso che my life is like this very rare yeah yeah adesso che io non sento più ritornello ritornello mi sto cercando dentro ad un sogno mio ti sto chiamando ma non puoi rispondermi se poi mi sveglio so che ti perderò bravi bravi felissimo solo di Dani dai non è accordata dai dai gentile ripetere vengono le corte direttamente Francesconi live ok per la gente vai vai impicchieranno Giordi impicchieranno Giordii eh felice ora però maldicole vai con la chitarra Dani guarda Sandy metti qualcosa riconosciamo le parole metti qualcosa tipo voglio sentire una gas qualche pezzo di cugini di campagna uuuuuh uuuuuh dai dai fanno le parole uuuuuh 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 ragazzi ora youtube alla grande uuuuuh aspetta aspetta ah volevo fare anche un caldo saluto a Sonni H che domani si delizierà con questa registrazione dico domani tutti su youtube eh si ok saluta a Bic la gente pensa male ciao allora due talenti ragazzolo Dani 85 e Mariucce ah è finito già salutate eh no un'altra un'altra salutate dai con la manina un grosso salutone a tutti anche perché mi aspettano due caldissime arancini no no la suona di chitarra eh 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 carissimo salutone a tutti anche per...